buongiorno ai bambini di tutte le età e benvenuti al nostro appuntamento di ogni venerdì con ti leggo una storia sull'identità di clio oggi a parlare sarà proprio un raggio di sole che ci racconterà le sue storie per bocca di uno dei più bei e meravigliosi narratori del mondo che siano mai esistiti e che è un nostro vecchio amico anderson la storia che vi leggo si chiama appunto le storie del raggio di sole adesso racconto io disse il vento no se permette disse la pioggia adesso tocca a me lei è già stato abbastanza all'angolo alla via a soffiare con tutte le forze che aveva e questo il ringraziamento disse il vento dopo che in onor suo ho rovesciato tanti ombrelli ne ho anche spezzati quando la gente non voleva avere a che fare con lei racconto io disse il raggio di sole silenzio e lo disse con splendore e maestà così che il vento si stese lungo com'era la pioggia invece scese brontolona nel vento e disse come possiamo sopportare una cosa simile si ficca sempre in mezzo questa madame raggio di sole noi non vogliamo ascoltarla non vale affatto la pena di starla sentire il raggio di sole raccontò un cigno volava sopra il mare ondoso ogni piuma scintillava come oro una piuma cadde sulla grande nave mercantile che filava gonfie vele la piuma si impigliò tra i ricciuti capelli del giovane custode delle merci lo chiamavano sopra carico la piuma dell'uccello della fortuna toccò la sua fronte gli si fece penna tra le dita in breve tempo egli divenne un ricco mercante che si comprò speroni d'oro e tramutò piatti d'oro nello scudo blasonato io mi ci sono specchiato dentro disse il raggio di sole il cigno poi volò sul verde prato dove il pastorello un ragazzo di dieci anni si era coricato all'ombra del vecchio albero l'unico che c'era sul prato e il cigno nel volare baciò una foglia dell'albero che cade nella mano del ragazzo e quella foglia si tramutò in tre fogli in dieci fogli in un libro intero ed egli vi apprese i prodigi della natura e la lingua madre la fede e la saggezza prima di andare a letto metteva il libro sotto il guanciale per non dimenticare quel che aveva imparato e il libro lo condusse tra i banchi di scuola alla mensa del sapere ho letto il suo nome tra quelli dei sapienti disse il raggio di sole il cigno volò poi nella solitudine del bosco si posò sui laghi quieti e scuri dove sbocciano le ninfee dove crescono i meli selvatici dove hanno dimora la tortora e la ghiandaia una donna povera raccoglieva legna da ardere rami caduti se li metteva sulle spalle e si dirigeva verso casa col suo bambino piccolo in collo vide il cigno dorato il cigno della fortuna alzarsi dalla sponda fitta dei calici cosa mai scintillava laggiù un uovo color d'oro se lo mise sul cuore sentì caldo certamente c'era una vita nell'uovo ma sì qualcosa batteva contro il guscio e la sentì ma pensò che fosse solo il suo cuore a battere a casa nella squallida stanza trasse dal seno l'uovo d'oro tic tic fece come se fosse un prezioso orologio d'oro ma era un uovo con una vita dentro l'uovo si un piccolo cigno piumato come l'oro puro mise fuori la testa aveva al collo quattro anelli e poiché la povera donna aveva proprio quattro figlioli tre erano rimasti lì a casa il quarto era quello che lei aveva portato con sé nel bosco solitario comprese subito che c'era un anello per ognuno dei figli ma appena comprese l'uccellino volò via lei baciò tutti gli anelli e ogni bambino diede un anello da baciare glielo pose sul petto glielo infilò al dito io ho veduto disse il raggio di sole ho veduto quel che successe dopo uno dei ragazzi scese nella buca dell'argilla raccolse un grumo d'argilla nella mano la ternì con le dita e ne fece una figura di giasone che aveva conquistato il vello d'oro l'altro ragazzo corse subito sul prato dove c'erano fiori di tutti i colori ne raccolse una bracciata gli strinse stretti stretti così che il succo gli schizzò negli occhi e bagnò l'anello un formicolio gli corse nelle mani e nella mente e dopo poco più di un anno la gente parlava del più grande pittore della città il terzo ragazzo strinse l'anello in bocca e sorriso no e giunse l'eco dal profondo del cuore sentimenti e pensieri si alzarono in note si librarono in aria come cigni canori si immersero come cigni in un profondo lago nel profondo lago del pensiero ed egli divenne un maestro di note ogni paese del mondo può ben dire mi appartiene il quarto bambino assi egli era la vittima della casa aveva la pipita dicevano tutti doveva mangiare burro e pepe come i pulcini malati che davvero pigolano con un accento come se chiedessero pepe burro e gliene diedero ma da me ebbe un bacio di sole disse il raggio ebbe dieci baci contro uno era una natura di poeta e fu accarezzato e fu baciato ma aveva l'anello della fortuna dono del cigno dorato della fortuna i suoi pensieri volavano come gli uccelli dell'estate dorata simboli dell'immortalità l'uccello della fortuna volò infine sopra la baia profonda dove i pescatori avevano teso le reti il più povero di loro pensava di sposare e si sposò il cigno gli portò un pezzo d'ambra l'ambra attrae attrae i cuori alla casa l'ambra è l'incenso più squisito ne usciva come un odore di chiesa era un odore di natura divina i due sposi gustarono la felicità della vita domestica la contentezza in condizioni modeste e la loro vita fu tutta una storia di raggi di sole e con questa bellissima fiabba io vi mando un bacio e vi do appuntamento venerdì prossimo arrivederci ai bambini di tutte dell'edate